Io ho deciso di rientrare in Italia nel 2016 proprio qui al Gran Sasso Science Institute perché amo il mio paese, sembra una risposta scontata, però io sono stata all'estero 17 anni, ho la doppia cittadinanza americana, ma non mi sono mai sentita altro che italiana. Per cui sono rientrata perché volevo usare le conoscenze che avevo acquisito all'estero per cercare di cambiare, sperando in meglio, un pochino le cose. Economista tra le cento più apprezzate nel panorama italiano, dopo 17 anni di docenza nelle università inglesi e americane, Alessandra Fagian rientra in Italia nel 2016, all'Aquila. Coordina un progetto di sviluppo economico delle aree interne al Gran Sasso Science Institute, dove oggi è anche vice-rettore. Perché qui sto dicendo la verità ma sembra che stia dicendo una bugia, allora devo dirla bene. Nei suoi lavori, centrati sulle disuguaglianze economiche, sociali e digitali, si avvale e promuove l'utilizzo degli Open Data. Per gli economisti, soprattutto per gli economisti applicati come me, i dati e gli Open Data sono fondamentali. Quando abbiamo un'intuizione del mondo, abbiamo bisogno di dati per provare che questa intuizione in realtà esiste ed è veritiera e senza dati purtroppo non possiamo farlo. Quindi gli Open Data sono veramente fondamentali per provare questa nostra intuizione. Ovviamente tutti i risultati delle nostre ricerche saranno poi degli Open Data che sono a disposizione dei cittadini e di altri fruitori nel caso in cui volessero continuare a fare ricerca su queste tematiche o volessero usarle ad esempio per delle politiche pubbliche. Il Gran Sasso Science Institute ha realizzato un importante studio sulla relazione tra le disuguaglianze sociali nella vita quotidiana e i tweet di odio che si diffondono in rete. Uno studio reso possibile proprio grazie alle informazioni provenienti da Open Data. Per fare questo studio abbiamo utilizzato degli Open Data che erano gli Open Data della mappa dell'intolleranza di Vox diritti. Abbiamo anche poi utilizzato dei dati sulla disuguaglianza che erano Open Data del Ministero delle Finanze. Sempre quest'anno insieme a due altri miei colleghi Alessandro Crociata e D'Aria Denti abbiamo anche studiato la relazione fra il consumo culturale e possibilmente il tweet di odio. Abbiamo usato dei dati della SIAE sull'Osservatorio sulla Cultura, dati che vanno dal 2009 al 2018 e sempre combinando questo con dati sull'odio che vengono dall'Open Data Lunaria che è un'associazione che collabora con l'Ocse per il rapporto sull'odio a livello europeo abbiamo trovato che sembra esserci una relazione inversa tra il consumo culturale e l'odio nel senso che chi consuma più cultura tende a odiare di meno. Questa ricerca basata sugli Open Data messi a disposizione da fonti diverse ha generato risultati molto interessanti. Questi studi stanno dando dei risultati molto interessanti. Infatti noi troviamo che l'odio in forma di tweet o anche in forma di comportamenti offline di odio sono legati a disuguaglianza da un lato, in modo positivo, nel senso che la disuguaglianza aumenta i tweet di odio mentre invece sono legati in modo inverso alla cultura, quindi dove si consuma più cultura in genere si odia di meno. Le nuove tecnologie e l'accesso alla rete possono giocare un ruolo determinante per la crescita economica delle aree geografiche meno sviluppate. Ma cerchiamo di capire il nesso tra digital divide e sviluppo economico di un'area geografica. È chiaro che gli Open Data sono molto importanti per queste aree e da quando sono tornata ho studiato il divario digitale che c'è fra le aree interne e le aree centrali. Bisogna colmare questo divario digitale, è veramente importante per lo sviluppo di queste aree anche e soprattutto perché possono usufruire di benefici come ad esempio quello di usufruire di Open Data. Gli Open Data vengono considerati un fattore chiave in quasi ogni ambito della vita, compresa la democrazia. È fondamentale perché quello che gli Open Data fanno è dare informazione alle persone e l'informazione, come tutti gli economisti sanno, ha un valore ed è un valore molto alto. Inoltre danno anche trasparenza e la trasparenza è assolutamente collegata con lo sviluppo economico di un paese. Alessandra Fagian, quale consiglio si sente di dare ai giovani che si stanno per affacciare al mondo del lavoro e in particolare a coloro che si vogliono occupare di Open Data? Ai giovani che vogliono occuparsi di questi temi ovviamente io consiglierei di venire a studiare nell'area di Scienze Sociali al Gran Sasso Science Institute perché così faccio un po' di pubblicità la mia area. Scherzi a parte, in realtà ci sono tanti percorsi che si possono fare per studiare gli Open Data. Ci sono delle conoscenze informatiche, ci sono ovviamente delle conoscenze invece nelle scienze sociali. Quindi dipende un po' da che angolo vogliono prendere nello studiare gli Open Data. Ci sono tante diverse possibilità, soprattutto qui. Io consiglio ai giovani, indipendentemente dal fatto che vogliano occuparsi di Open Data oppure no, di fare un'esperienza all'estero. Io l'ho fatta, mi è servita. Quello che però consiglio anche ai giovani è di non rimanere all'estero, ma di tornare in Italia perché abbiamo bisogno delle menti giovani e fresche che facciano di questo paese un paese migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.